Ai 16 chilometri off-limits, perché a rischio crollo da Porto Cesario a Castro, si aggiungono i 20 chilometri interdetti lungo il litorale adriatico tra Otranto e Melendugno. Continua l'avanzata del fenomeno erosivo che sgretola la falesia e alla quale si fatica a trovare una soluzione. E questo perché, viene rimarcato dai comuni, i finanziamenti previsti a tal fine non bastano. Tra le zone più conosciute e inaccessibili anche quest'anno ci sono parte del lungomare di Torre dell'Orso, il tratto che include la Pineta e le Due Sorelle, Rocali Posti e il lungomare della stessa marina. E poi ancora l'insenatura dell'Onfocaciucci, parte dell'insenatura della Zolfatara con le piscinette naturali. E ancora proseguendo la Baia di Sant'Andrea, dei Turchi, delle Orte e dei Mulini d'Acqua, località Cerra e Punta Craulo, le grotte Palombara e delle Orte e buona parte di Porto Badisco. Zone incantevoli che la natura punta a riprendersi e per le quali ad oggi i progetti di contenimento erosivo sono ben pochi a causa della difficoltà reperire i fondi necessari. Tanti, tantissimi. Basti pensare solo a titolo di esempio che la chiodatura del costone roccioso, una delle tecniche impiegate per stabilizzarlo, può arrivare a costare fino a 12.000 euro per ogni singolo metro. Una spesa che i comuni da soli non possono proprio permettersi. E allora anche quest'anno ci si ritrova a punto a capo, con 36 chilometri complessivi di litorale proibito.